20 luglio 2017. Questo è l'ingresso del centro di decontaminazione dell'ospedale di Poligoro che dovrebbe accogliere personale eventualmente esposto a radiazioni nel centro ITREC. Vedete qui c'è sia la rampa che le scale. Abbiamo visto prima dall'interno il centro. Sono dei normali locali che per la radioprotezione apparentemente hanno nulla o quasi. Questa è la porta. Si vede che questo è stato un magazzino a disposizione di icono dell'Avis. Infatti si vede che non ci sono né segni di utilizzo né segni di passaggio. La porta è chiusa e quindi se adesso si dovesse verificare un incidente innanzitutto bisognerebbe perdere tempo per trovare la chiave.